Voila! Ciao a tutti da NomoChef! In questa ricetta faremo le mazzancolle! E sti cazzi? Le faremo le pappardelle condite con mazzancolle e carciofi. Quelle qui, le mazzancolle! Guardate, che schiettaggio, eh? Adesso andiamo a preparare. Intanto ho messo su anche l'acqua. Mentre cuoce l'acqua faremo questo sughetto molto gustoso. Gli ingredienti sono le mazzancolle, il carciofo tagliato a spicchi e un pezzo di gambo a pezzettini fini piccoli piccoli piccoli, aglio, olio, prezzemolo e peperoncino. E un bicchiere di vino bianco. La prima cosa che io ho fatto è ho tritato il prezzemolo e l'aglio. Mettiamo nella padella aglio, olio, prezzemolo e peperoncino. Andiamo! Olio extravergine di oliva. Voila! Quanto basta! Aglio. Il prezzemolo e i carciofi. Muralè. Facciamo andare un po' di pochino questo. Abbassiamo un po' il fuoco. E un po' di peperoncino. Mezzo bicchiere di vino. Allora, aspettiamo il mazzantello. E mettiamo il restante vino. Allora, aspettiamo il vino. Aggiungiamo anche un pochettino di acqua di cottura della pasta. E facciamo finire la cottura. Sale dall'acqua. Guardate che spettacolo! benissimo, adesso raggiungiamo ancora appena un po' d'acqua così di cottura e voilà aggiungiamo altro prezzemolo ecco il piatto pronto eccolo ecco qua perfetto adesso aspettiamo che arrivi la nonna e la nonna che fa le porzioni ecco la maccherone mi hai provocato e io ti devo strugare il gusto piccante la nostra mazzancolla ah alla faccia del bicarbonato di sodio un saluto a tutti fate questo piatto perché veramente merita ci vuole poco nel tempo che vuole l'acqua fate questo sughetto alla prossima ciao saluta nonna grazie a tutti grazie a tutti